Intanto un iceberg grande come l'isola d'Elba si è staccato da uno dei principali ghiacciai della Groenlandia. Difficile stabilire le cause di questo evento considerato il più grande degli ultimi 50 anni. Le servizie di Mila Cataldo. Un immenso blocco di ghiaccio, un'enorme massa gelata di 260 km2 di superficie, più grande per intenderci dell'isola d'Elba e spessa a 200 metri, 40 in più, del grattacielo Pirelli a Milano, si è staccata dal ghiacciaio di Peterman in Groenlandia e ora fluttua nel mare, circa 1000 km a sud del polo nord. Lentamente questa gigantesca isola ghiacciata, troppo grande per essere definita un iceberg, si sta spostando verso sud, lungo lo stretto di Nares, quell'embo di mare che separa la Groenlandia dal Canada. Sono i satelliti ad aver evidenziato che il ghiacciaio di Peterman, il principale della Groenlandia, ha perso la sua parte terminale, quella più sottile. Non si è però trattato di una sorpresa, gli scienziati statunitensi e canadesi sembra avessero previsto l'evento. La frattura, dicono gli studiosi di scienze oceanografiche, sarebbe avvenuta il 5 agosto. Ora l'isola galleggiante, immensa e piatta, potrebbe collegarsi a una delle tante isolette della zona legate al fondale marino e potrebbe persino ostruire alcuni canali navigabili. Se invece le correnti dovessero sospingerla ancora più a sud, potrebbe frazionarsi e addirittura sciogliersi. Difficile stabilire se la causa del distacco di questo gigantesco blocco di ghiaccio, la cui massa d'acqua dolce potrebbe soddisfare per tre mesi il fabbisogno degli Stati Uniti, sia imputabile al surriscaldamento climatico. Era da anni che non accadeva un simile evento nell'Artico, da quando, nel 1962, una massa di ghiaccio grande il doppio di quella attuale si staccò sempre dalla Groenlandia per finire anch'essa nello stretto di Nares. Grazie.